Il telegiornale del Nord-Est, buonasera e ben ritrovati amiche e amici di Telepordenone, grazie per essere in nostra compagnia anche questa sera per l'edizione di mercoledì 6 ottobre del nostro notiziario in diretta dalle redazioni di Pordenone, Udine e Portogruaro. Saluto e ringrazio la collega Tania Pellegrini. Buonasera direttore e buonasera ai nostri telespettatori. Alla quale cedo il passo per le anteprime di oggi, prego. Certo, partiamo con lo scontro mortale autocontromoto a Maron di Brugnera, avvenuto ieri sera, non ce l'ha fatta il Centauron 43enne di Prata di Pordenone, era un noto operaio alla Friuli Intagli. A Pordenone è partito il toto Assessori dopo le elezioni vinte da Alessandro Ciriani, in attesa della comunicazione ufficiale che dovrebbe arrivare entro l'inizio della prossima settimana. Vi diremo chi potrebbe ricoprire i ruoli chiave nella giunta Ciriani-Bis. Chiuso dal questore di Pordenone, per 60 giorni il bar-ristorante da Teodora, gestito da Ferdinando Polegato, noto come il duce di Sequals. Le ragioni sarebbero legate a un video spopolato sui social, in cui si vede lo stesso Polegato incitare alla violenza e alla rivolta contro le istituzioni. Come sempre parleremo anche di sport e cultura, con l'inaugurazione di una mostra in regione sul mosaico curata da Spilimbergo. Queste e molte altre notizie che andremo ad approfondire nel corso del notiziario di questa sera. E ricedo volentieri la parola al direttore. Bene, ora prima di iniziare, come consuetudine, andiamo dai colleghi delle redazioni di Udine e del Veneto per i loro saluti e le loro anteprime. Prego. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Vediamo subito qualche anticipazione alle notizie che tratteremo nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vedremo un'operazione svolta dalla Polizia di Stato di Trieste, che nella notte di ieri ha denunciato per guida in stato di ebrezza un triestino classe 1997 che si è andato a schiantare con la sua auto su un muretto. Andremo poi a vedere la tragica morte di Renato Peressan, 101enne di San Giovanni, al natisone reduce dell'Armir. Andremo poi ad analizzare il caso Crack Fingestim. Sono tre le condanne emesse dal Tribunale di Udine. Nelle scorse ore, tra i condannati, anche Mario Raggi, uno dei soci della stessa Fingestim. Tante le notizie che arriveranno anche da Udine, Gorizia e Trieste. Prima di proseguire, linea al collega del Veneto. Per i saluti. Ben trovati anche dal Veneto. A Caorle continuano le indagini dei carabinieri. Dopo il rinvenimento ieri mattina di una donna senza vita sul lungomare Trieste, nelle ultime ore è stato sottoposto a sequestro un mezzo dell'Asvo, l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, nel mandamento porto gruarese. Fermato per un controllo, viene scoperto con 20 dosi di droga in auto, è accaduto nel Veneziano. Nel Trevigiano, invece, Rissa senza esclusione di colpi, tra due camionisti entrambi finiti in ospedale. Aspettiamo il sindaco di Pramaggiore, pronto a intervenire sui fondi di confine. Arrivano risorse per i comuni che confinano con il vicino Friuli Venezia. Giulia, ne parleremo nel corso del telegiornale. Ricca anche la parte, come sempre, del Veneto, linea Pordenone. Apriamo dunque il telegiornale con lo scontro mortale tra un'auto e una moto a Marondi Brugnera, avvenuto ieri sera. A perdere la vita il centauro Roberto Maccan, operaio di 43 anni, di Prata, di Pordenone. Tragedia sulla strada a Marondi Brugnera, ieri sera. Morto in sella alla sua moto Roberto Maccan, 43enne, di Prata, di Pordenone. Fatale lo scontro con un'auto, avvenuto tra le 19 e le 20 di ieri, in via Puglia, all'incrocio con via Zoppat. In l'ESA, la donna 51enne di Gaiarine, alla guida di una Toyota i-Go. Stando alle ricostruzioni dei militari dell'arma giunti sul posto, l'automobilista, mentre stava svoltando in direzione di via Zoppat, si è vista sopraggiungere la moto dell'uomo, una BMW GS. Nel violento impatto, Maccan è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Inutili, purtroppo, i soccorsi, arrivati tempestivamente in via Puglia, assieme ai Vigili del Fuoco, dopo l'allarme lanciato al 112. Giunti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sacile, per i rilievi e gli accertamenti del caso. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Roberto Maccan era originario della frazione di Villanova, e lavorava come capoturno alla Friuli Intagli. Tanti amici e conoscenti lo ricordano come una persona buona e generosa, come attestano i numerosi messaggi di cordoglio a lui dedicati sui social. Rissa senza esclusione di colpi tra due camionisti a Volpago del Montello, entrambi finiscono all'ospedale. Il servizio. Prima se le sono dette di santa ragione, e poi sono passati velocemente alle vie di fatto. Protagonisti di una rissa senza esclusione di colpi a Volpago del Montello sono stati due autotrasportatori romeni, un 46enne e un 53enne, che dopo l'intervento dei carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale di Montebelluna. Il fatto è accaduto attorno alle 22 in via Piave, la zona industriale solitamente utilizzata dai mezzi pesanti per assosta dei veicoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due, dopo aver consumato la cena in evidente stato di alterazione a seguito di un acceso litigio scoppiato, pare, per futili motivi, hanno dato vita alla zuffa. Il 46enne ha colpito più volte con una leva in ferro il connazionale, che ha reagito sferrando un fendente con un coltello da cucina. Il primo ha riportato una ferita da taglio al dorso della mano destra, una decina di giorni la prognosi, e l'altro, ancora sotto osservazione dei sanitari, una frattura al braccio sinistro, un trauma cranico e una ferita lacero contusa al mento. Gli oggetti contundenti utilizzati dai due stranieri sono stati posti sotto sequestro dai militari dell'arma. Entrambi rischiano una denuncia. A Pordenone è partito il toto Assessori in attesa della comunicazione ufficiale da parte del sindaco Alessandro Ciriani sulla nuova squadra di governo. La decisione tra sindaco e partiti dovrebbe avvenire nel fine settimana. Intanto vediamo chi potrebbe ricoprire i ruoli chiavi nella giunta Ciriani-Bis. Il neorie eletto sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha 15 giorni di tempo dalla data del voto per formare la nuova squadra degli Assessori. Ma conoscendo il carattere decisionista dello stesso, l'aspettativa è che tra questo fine settimana e l'inizio della prossima sarà presentata la giunta Ciriani-Bis. Tre Assessori dovrebbero essere scelti tra i candidati con la lista civica del sindaco Pordenone-Cambia, che si è confermata primo partito. Cristina Mirante, che con 884 voti è la consigliera che ha ottenuto più preferenze a Pordenone, dovrebbe mantenere il suo attuale assessorato all'urbanistica, con l'aggiunta di quello al demanio e ai lavori pubblici, precedentemente assegnato a Walter de Bortoli. Il secondo più votato della lista del sindaco, Alberto Parigi, che ha ottenuto 402 voti, dovrebbe diventare il nuovo assessore alla cultura, subeltrando così a Pietro Tropeano, con cui i rapporti si sarebbero raffreddati ormai da mesi. A Monica Cairoli, che ha ricevuto 246 preferenze, dovrebbe andare l'assessorato all'ambiente. Per quanto riguarda la lista di Fratelli d'Italia, il più votato Emanuele Loperfido, che manterrebbe le sue deleghe al commercio e alla sicurezza, potrebbe ricevere anche quella del bilancio, un assessorato cruciale, precedentemente assegnato a Maria Cristina Burgnich, nominata da esterna, la quale si è già dimessa. Le ipotesi su chi si potrebbe occupare del bilancio sono tre. Oltre al leader portenonese di Fratelli d'Italia, lo stesso sindaco Ciriani, oppure Francesco Ribetti, che ha ottenuto 253 preferenze da parte degli elettori e scalpita per avere un assessorato. Sempre all'operfido potrebbe andare anche la carica di vice sindaco, precedentemente ricoperta da Eligio Grizzo, che però risulta escluso dal Consiglio Comunale. Grizzo potrebbe però essere ripescato dal sindaco stesso, essendo il vice sindaco un ruolo di grande responsabilità che richiede una comprovata fiducia tra il primo e il secondo cittadino. Considerando che Grizzo e Ciriani lavorano insieme dai tempi della presidenza della provincia di Pordenone, Ciriani potrebbe decidere di assegnargli il ruolo o perlomeno di lasciargli l'assessorato alle politiche sociali, che si rivelerà comunque cruciale con l'arrivo a Pordenone di 22 milioni di euro, previsti dal PNRR, che saranno da gestire in città. Walter De Bortoli, che con Fratelli d'Italia ha ottenuto 255 voti, dovrebbe essere riconfermato come assessore allo sport. Potrebbe mantenere il suo ruolo anche Guglielmina Cucci, che con la coalizione Forza Italia Udc e Pordenone Civica ha ricevuto 77 voti. A lei resterebbero l'assessorato al turismo, quello alle pari opportunità e quello alle progettazioni su fondi europei. Infine, si dovrebbe decidere con una trattativa se assegnare un assessorato anche alla Lega, la quale ha perso un consigliere comunale passando dai 4 ottenuti nel 2016 a 3. La prima della lista sarebbe Samantha Miotte, che ha ricevuto 224 preferenze. La decisione definitiva sarà presa nel fine settimana, quando il primo cittadino si riunirà con i partiti. Siamo allora con la donna più votata di Pordenone, Cristina Mirante. Buonasera. Buonasera. Abbiamo, come ha visto nel servizio, raccolto un po' i rumors che si sentono nei corridoi del Palazzo Municipale e nelle sedi dei partiti. Siamo tanto distanti da quelli che saranno i fatti? Ma in realtà noi possibili assessori chiaramente siamo tenuti fuori dalla discussione dei vari partiti che stanno interagendo con il sindaco, quindi sono sicuramente la persona meno adatta a cui fare questa domanda. Io spero di conservare ovviamente quelle che sono le deleghe che ho avuto in questi 5 anni, quindi per quanto riguarda l'urbanistica e la parte dei lavori pubblici che riguarda la viabilità e la pianificazione della mobilità e degli interventi di politiche energetiche. E quindi questa è quella che è la mia speranza. Sicuramente diciamo la lista civica Pordenone cambia ambisce di avere tre assessorati, questo lo posso confermare perché credo che con il 27% insomma si possa dire che ce lo siamo meritato. È chiaro che poi per quanto riguarda le deleghe insomma c'è una discussione in corso e quindi io non posso dire nient'altro che appunto quello che riguarda semplicemente la mia delega che spero appunto di conservare. Anche perché insomma a parte che l'attività amministrativa sta continuando anche in questi giorni e poi ci sono un sacco di cantieri da concludere. E tanti da cominciare in realtà se pensiamo soltanto a Piazza del Popolo insomma sul quale abbiamo già un progetto preliminare il ponte sul Meduna la rotonda della Satale 13 via interna sono tutti cantieri che potranno vedere la luce tra il 2022 e il 2023. È chiaro che da chiudere ci sono ancora dei lavori relativamente a torre soprattutto per quanto riguarda l'intervento di via Zara che è tuttora in corso e quello di via Stradelle nel tratto tra via Zara e via Sauro e poi ci sono l'intervento da concludersi di Piazza della Motta dove è stato per esempio ritrovato da poco la vecchia cisterna che alimentava l'impianto di riscaldamento dell'ex biblioteca che non è solo da rimuovere ma anche da modificare quindi ovviamente anche qui un ulteriore imprevisto che come spesso succede quando si scava il centro storico insomma si trova di tutto un po' anche dei vecchi ruderi di poco interesse come una vecchia cisterna insomma che però va tolta con tutte le dovute cautele proprio per evitare di inquinare l'ambiente ecco ha citato Torre allora i lavori sull'asse principale cioè quello via Piave e via Sclavons sono praticamente conclusi però sono da terminare le vie laterali adesso il cronoprogramma cosa prevede? la scadenza definitiva dei lavori poi quando dovrebbe essere? beh la scadenza è stata spostata a fine anno prevede l'asfaltatura adesso di via Galilei con la segnaletica ormai diciamo le opere principali sono state fatte la realizzazione della ciclabile del pedonale lungo via Baracca il completamento dei lavori di fognatura in realtà soprattutto di acquedotto che è stato trovato in pessime condizioni nonostante l'età piuttosto giovane dell'impianto che ha poco più di 20 anni in via Zara quindi ci sono tutta una fase ancora di lavori di scavo che andranno avanti ancora un po' per poi vedere realizzato quello che è l'intervento sulla viabilità superficiale in realtà in via Zara ci sarà un intervento abbastanza poco invasivo nel senso che ci sarà una riasfaltatura con alcuni spazi dove garantire la pedonalità la stessa cosa in via Stradelle la stessa cosa per quanto riguarda il centro di Torre ovvero piazza Lozzer via General Cantore e via Carnaro che saranno oggetto di riasfaltatura con degli interventi e degli inserimenti anche di pietra insomma quindi questi sono i lavori e più o meno l'ordine è quello che ho appena annunciato salvo modifiche dell'ultimo minuto benissimo grazie a Cristina grazie a voi per queste anticipazioni e a presto spopola un video sui social in cui Ferdinando Polegato noto come il luce di Sequals incita la rivolta contro le istituzioni arriva però la stancata dal questore chiuso per 60 giorni il suo locale il bar ristorante da Teodora proprio a Sequals realizza un video che spopola sui social in cui incita la rivolta e alla violenza contro le istituzioni ma interviene il questore chiuso per 60 giorni il ristorante di Ferdinando Polegato noto come il duce di Sequals il provvedimento nei confronti del bar ristorante da Teodora co-gestito da Polegato e dalla moglie è stato disposto dal questore Marco Dorisio per motivi di ordine pubblico dopo che un video fatto girare sui canali Telegram e Whatsapp mostrava Polegato stesso che in presenza di clienti all'interno del suo locale inveiva contro le istituzioni incitando alla rivolta e al giustizialismo facendo riferimento anche a gruppi organizzati il filmato è stato individuato dagli agenti della Digos e dell'UPAS della Questura che hanno rilevato una situazione di pericolo per l'ordine pubblico è stata quindi disposta alla sospensione dell'attività per 60 giorni in merito al provvedimento preso dal capo della polizia di Pordenone ecco cosa ha dichiarato lo stesso Ferdinando Polegato voglio precisare che non è il mio locale il locale è di mia moglie io collaboro anche se mia moglie non vede l'ora magari di mandarmi fuori dalle scatole perché io esprimo sempre la mia opinione e voi lo sapete perché sono anni e anni che sto dicendo sempre le stesse cose non capisco perché proprio oggi sono capitati della chiusura potevano farlo già 30 anni fa credo di aver detto le mie opinioni e le mie cose senza offendere nessuno ho parlato di una magistratura che stanno parlando tutti i giornali tutte le trasmissioni che è di parte è schierata fa politica non fa giustizia ho parlato di Draghi che non è stato votato nessuno ci l'avrà votato il governo avrà tutto quello che vuoi però insomma noi vorremmo vedere anche anche un presidente del consiglio votato dal popolo insomma uno dei parlamentari votati dal popolo dovrebbe essere poi ho detto di Mattarella signori Mattarella no comment sono qua se mi considerate pericoloso io non lo sono pericoloso nel nostro ambiente non è mai successo una baruffa non è mai successo una parolaccia non è mai successo niente parliamo anzi anzi discorso dei gruppi armati che ho detto che sono i gravi io ho sentito delle persone ma basta andare sui social a vedere un attimo ci sono dei gruppi veramente che stanno cercando e io sto dicendo ragazzi calma calma facciamo le manifestazioni facciamole con calma non con le armi perché non esiste perché altrimenti chi ci rimette le forze dell'ordine la gente normale e io sono contrario a qualsiasi forma di violenza perché a me mi potranno dire qualsiasi cosa perché io abbia alzato le mani su una persona non esiste e ho 68 anni non ho mai messo le mani d'osso a nessuno pertanto se ritenete polegato a Ferdinando non prendetela con mia moglie che ha un'attività che è 54 anni che cucina na Teodora 54 anni e li chiudete in attività questo sto male solo per quello io per mia moglie perché 54 anni che cucina prendetela con polegato Ferdinando portatemi via allontanatemi se sono pericoloso non so curatemi ma io dico sempre viva l'Italia viva l'Italia viva la gente che lavora non possono chiudere in attività che lavora capite non possono qui stanno facendo degli abusi quest'ora l'avvocato Francesco Ribetti insieme al collega Coden Giorgio Coden difenderà Ferdinando Pollegato penso che stiate già predisponendo un ricorso guardi ci ha appena portato le carte personalmente le stiamo guardando le sto guardando adesso valuteremo dalla prima lettura che ho dato molto veloce mi sembra di poter dire che i requisiti per l'articolo 100 a mio modo di vedere non ci sono assolutamente ma per una serie di considerazioni che poi spiegheremo meglio nel nostro atto giudiziario ma una semplice riflessione se deve essere basata la chiusura di un'attività che tra parentesi è anche di un soggetto diverso dal Pollegato se deve essere basata sul presupposto che la pericolosità è all'interno dell'attività ecco secondo me questa è la parte proprio più debole del ragionamento che ho letto velocemente nelle carte cioè io credo che se il Pollegato vuole dire qualcosa come conosciamo tutti la figura di Ferdinando Pollegato la possa dire all'interno dell'attività all'esterno dell'attività o a casa sua quindi ecco andare a chiudere un'attività che produce ricchezza e in un momento poi come questo lo vedo userei un termine quasi un avvertimento secondo me suona d'avvertimento sembra quasi almeno leggendo le carte che il messaggio che viene dato al Pollegato è un messaggio di avvertimento secondo me giuridicamente allo Stato da quello che ho letto non ci sono gli estremi quindi valuteremo concludo valuteremo la presentazione del ricorso tra parentesi in più breve tempo possibile perché un'attività che resta chiusa è un'attività che non produce ecco perché lei diceva che nell'articolo che ha citato poco fa che sarebbe l'articolo che sulla base del quale l'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza del testo unico di legge pubblica sicurezza sì ma devo vedere non pure volevo chiedere nell'articolo che mi ha letto poco fa si parla di determinate categorie di persone che devono essere presenti all'interno del locale per giustificare la chiusura sì dalla lettura dell'articolo 100 ci sono un insieme di condizioni viene fatto anche riferimento a pregiudicati ma oltre condizioni di turbativa di quello che è il normale vivere civile quindi il normale il turbamento della vita normale quindi quando ciò costituisce un pericolo ci sono delle condizioni per la chiusura ecco io ritengo che nel caso di specie manchino questi presupposti fermato per un controllo viene scoperto con 20 dosi di droga in auto è accaduto nel veneziano il servizio un 21enne di nazionalità albanese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti il giovane è sottoposto a un controllo stradale a Carpenedo località di Venezia è stato trovato in possesso di una ventina di dosi di cocaina già confezionate e una considerevole somma di denaro incontante di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione il blitz dei poliziotti eseguito in sinergia con la locale veneziana è scattato dopo la presenza sospetta di quell'auto con talca italiana che si aggirava insistentemente nei pressi del parcheggio del cimitero apparentemente senza alcuna motivazione da ulteriori controlli è inoltre emerso che il soggetto risultava essere irregolare sul territorio nazionale lo stesso è stato così condannato con rito direttissimo a un anno di reclusione e a 1400 euro di multa con conseguente confisca dello stupefacente e del denaro sequestrato e alla notifica del decreto di espulsione dal territorio italiano allora torniamo alle amministrative di San Vito al tagliamento perché lì la partita non è conclusa sapete che si va al ballottaggio e qui con noi ora c'è uno dei due candidati rimasti in lizza Alberto Bernava buonasera 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 a tutti buonasera direttore tra l'altro il confronto tra lei e delle frate che sarà nostro ospite fra un po' andrà lo manderemo in onda mercoledì 13 ottobre in coda al TG senta e allora Virginia Raggi qualche giorno fa ha detto che quando i giornalisti gli chiedevano come avrebbe orientato lei il suo elettorato ha detto gli elettori non sono pacchetti da spostare è chiaro però che anche a San Vito insomma il partito democratico che è rimasto fuori dalla lizza potrebbe essere lago della bilancia in questa finale in questa finalissima sì diciamo che se non sono stato un grande ammiratore di Virginia Raggi come amministratore pubblico devo devo essere d'accordo con lei mi trovo d'accordo con lei quando afferma quanto quanto detto cioè gli elettori non sono sicuramente dei pacchetti che possono essere spostati da una parte all'altra in base a accordi più o meno trasparenti tra i segretari dei partiti noi abbiamo criticato molto accordi inciucci accordi sottobanco nelle ultime elezioni comunali a San Vito e quindi noi saremo molto coerenti perché non faremo nulla che non sia chiaro ai nostri elettori chiaramente essendo noi in discontinuità con l'amministrazione uscente non faremo né accordi né apparentamenti e quindi porteremo avanti con la massima determinazione il nostro programma le nostre idee il nostro progetto per la San Vito del futuro è chiaro che in questa situazione però a quell'elettorato dobbiamo parlare dobbiamo dare una rappresentanza perché anche loro sono chiamati al voto dopo noi è chiaro che ci aspettiamo ed è fisiologico come è successo cinque anni fa purtroppo un abbassamento dell'affluenza una riduzione dell'affluenza cinque anni fa passiamo dal 65% al 59% di affluenza al primo turno e il 50% il secondo turno al ballottaggio quindi è evidente ci auguriamo di no ma ci aspettiamo insomma un'affluenza minore è chiaro che noi dobbiamo lavorare e lavorare molto duro anche in in un quadro diverso che è quello del ballottaggio per portare più persone possibili a votare anche quelli che non sono non si sono recate le urne al primo turno e quindi dare una prospettiva anche a quell'elettorato lì e poi chiaramente trovare quei temi e quelle sensibilità comuni a quell'area che ha votato Susi Centis al primo turno e portarli a votare portarli a votare per noi perché ci sono diversi temi che ci possono trovare vicini ci possono trovare in posizioni analoghe o simili e quindi penso che sia corretto che chi ha l'ambizione di rappresentare la comunità in senso ampio e una comunità che noi vogliamo intendere comunita questa è sicuramente questo rappresenta sicuramente un banco di prove importante per dare un segnale un segnale molto chiaro quindi noi abbiamo già iniziato a lavorare di nuovo con con il con il nostro con la nostra comunità con i sanvitesi con l'elettorato abbiamo iniziato di nuovo anche con del materiale del materiale rinnovato nel casa per casa negli incontri con le associazioni nelle frazioni per trasmettere la nostra idea della sanvite del futuro perché riteniamo che oggi ci troviamo in un momento storico per la nostra comunità ed è evidente questo che c'è un cambio generazionale molto forte e poi c'è una netta discontinuità essendosi esaurita una una spinta diciamo propulsiva iniziata dieci anni fa ecco ma proprio questa discontinuità e anche il fatto che cinque anni fa c'è stato un altro testa a testa tra il partito democratico di D.B. Scegli che poi vinse e voi come cittadini non pensa che questo potrebbe pesare negativamente nei vostri confronti ma non credo penso che noi abbiamo la maturità in questo momento l'abbiamo dimostrato a queste ultime elezioni di poter essere rappresentativi di un'area che può che può essere che prima è stata rappresentativa con determinate sensibilità nel sociale nell'ambiente nella crescita economica nella sanità pubblica e quindi c'è sicuramente l'esigenza di essere rappresentati in questo momento i contendenti alla carica di sindaco sono rimasti siamo rimasti in due e quindi riteniamo che si possano mettere da parte sicuramente alcune fratture che ci sono state e alcune divisioni che esistono tuttora perché è evidente che noi continuiamo a esprimere una differenza sostanziale nel modo di amministrare rispetto alla giunta uscente però è chiaro che adesso in questo momento bisogna dare una prospettiva di rilancio per una società come quella sanvitese che deve essere inclusiva unita e che debba guardare il futuro con fiducia oggi noi vogliamo rappresentare questo bene grazie Alberto Bernava ci vediamo appunto mercoledì 13 ottobre per il confronto benissimo grazie buonasera a tutti in merito alle elezioni amministrative nel comune di San Vito al tagliamento si è espresso anche il comitato ABC che si è ritenuto soddisfatto del risultato elettorale del primo turno in quanto hanno fatto sapere in una nota rispecchia l'opinione della grande maggioranza della popolazione di San Vito sull'importante questione della Cronospan infatti entrambi i candidati che andranno al ballottaggio si sono espressi pubblicamente e ripetutamente contro l'ampliamento e l'inceneritore richiesto dalla ditta ora il comitato ABC ritiene doveroso che i candidati sindaci del ballottaggio e tutte le relative liste che li appoggiano ribadiscano chiaramente le posizioni già espresse e specificano ulteriormente quali atti azioni ed iniziative attueranno per opporsi all'ampliamento e all'inceneritore richiesti dalla Cronospan già a partire dallo stato attuale della situazione amministrativa del PAUR nella mattina di ieri si è spento Renato Peressan 101 anni di San Giovanni al Natisone era reduce della campagna di Russa ai particolari nel servizio di Edoardo Anese a distanza di pochi giorni dalla data del suo centunesimo compleanno si è spento nella mattinata di ieri martedì 5 ottobre Renato Peressan di San Giovanni al Natisone geniere alpino nelle trasmissioni nel terzo battaglione misto del genio della divisione alpina Giulia una nota del presidente dell'Unir Giuliana Danilo Grattoni comunica la scomparsa di Renato Peressan che aveva compiuto 101 anni lo scorso 12 settembre ed è deceduto nell'ASP casa per anziani di Cividale dalla fine di ottobre del 1940 fino all'aprile del 1941 fu sul fronte greco-albanese dove ricorda Grattoni rimase ferito subendo la perdita parziale dell'udito dopo 4 mesi di ospedale militare a Udine fu inviato in Russia con il suo battaglione dell'Armir proprio in Russia sull'ansa del Don salvò la vita al colonnello Mario Petti e percorse dal 1943 la ritirata fino in Italia rientrato a San Giovanni e aderito alle formazioni partigiane per la lotta di liberazione rimangono scolpite le sue parole gli alpini di San Giovanni che hanno dato la loro vita per la patria tutto hanno dato e nulla hanno chiesto e adesso chi ha posato lo zaino riposa nella nostra memoria in questo modo si conclude la nota di Grattoni siamo ora col secondo candidato al ballottaggio di San Vito al Tagliamento Valerio Delle Fratte buonasera ben trovato direttore Valerio Delle Fratte che è sostenuto dalla sua lista civica a Mosan Vito e dalla coalizione di centrodestra senta allora siete arrivati i secondi al primo turno seppur di poco però in molti adesso sostengono che potreste essere i favoriti visto che a quanto pare il partito democratico sarebbe più a San Vito il partito democratico sanvitese sarebbe più propenso a sostenere voi del centrodestra piuttosto che la coalizione di Bernava e siccome insomma in politica ormai abbiamo visto di tutto potrebbe effettivamente verificarsi questa ipotesi beh questi sono rumors che mi riporta lei io sono sono lieto che a San Vito ci siano persone che pensano al bene di San Vito quindi naturalmente il nostro appello è rivolto agli elettori sanvitesi e noi a loro ci rivolgiamo e ci continueremo a rivolgere il messaggio che abbiamo portato avanti in questi mesi di campagna elettorale ma direi che abbiamo portato avanti anche in questi anni di azione in consiglio comunale è quello effettivamente di pensare alle cose che fanno bene a San Vito che vanno bene per i sanvitesi a tutelare gli interessi dei nostri concittadini siamo arrivati a un ballottaggio che ci vede contrapposti a un'altra coalizione che io ritengo non adatta ad amministrare San Vito ritengo invece che la nostra coalizione possa farlo ovviamente in un ballottaggio ci sono in questo caso il terzo gruppo di persone il terzo gruppo di elettori che dovrà scegliere a chi dare il proprio voto se darlo il mio appello è sicuramente per tutti gli elettori quindi anche quelli che non sono andati a votare per gli elettori che non ci hanno votato al primo turno perché il nostro programma è un programma in cui noi andiamo ripetendo oramai da tanto tempo vogliamo andare a recuperare quelli che sono stati dimenticati in questi anni non abbandoneremo nessuno quindi in primisio non abbandoneremo quelli che non sono andati a votare anche quelli che non ci hanno votato ma questo è un programma molto ambizioso un programma che noi dobbiamo mettere in atto da subito e quindi io mi sento di avere tutte le carte in regola per andare a chiedere a queste persone di darci fiducia ecco come ho detto anche prima con il candidato Bernava in realtà insomma gli elettori non sono pacchetti di voti da spostare assolutamente però certo però probabilmente un'indicazione da parte del proprio partito del proprio partito di riferimento potrebbe fare la differenza ecco nell'eventualità però che foste appoggiati dal partito democratico e che doveste vincere a quel punto non sarebbe inverosimile trovarsi in giunta qualche rappresentante del partito democratico lo escludo a priori che in giunta ci possa essere qualche rappresentante del gruppo diciamo uscito sconfitto dal primo turno se gli elettori di centro-sinistra quelli che hanno scelto in primis la Sussi Centis come loro candidata a sindaco decideranno di darci la loro fiducia saranno gli elettori che avranno in cambio tutto il nostro impegno tutto il nostro amore per il nostro paese per il nostro territorio e che riusciranno a toccare con mano quello che è l'applicazione reale del nostro programma che è lì pronto da attuare è un programma dicevo prima ambizioso un programma che richiederà la collaborazione di tutti in primis dei nostri concittadini delle attività produttive di tutti coloro che si vorranno mettere a disposizione di questo gruppo fantastico che abbiamo creato e con il quale stiamo compiendo un'azione veramente storica per San Vito un cambio reale di passo nel rapporto soprattutto fra pubblica amministrazione e i nostri concittadini quindi lei esclude la possibilità di accordi con il gruppo l'ho già detto ripetutamente anche in questi minuti io escludo qualsiasi accordo con i partiti il nostro appello è agli elettori benissimo grazie a Valerio Delle Fratte appuntamento anche con lui per mercoledì 13 per il confronto con Bernava senza altro grazie a lei direttore in verito al caso della Crack Fingestim sono tre le condanne emesse dal tribunale di Udine tra i condannati anche Mario Raggi uno dei soci stessi di Fingestim tutti i dettagli nel prossimo servizio è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per bancarotta fraudolenta Mario Raggi uno dei soci di Crack Fingestim ma non sarebbe l'unico assieme a lui sono stati infatti condannati altri due soci il 57enne Loris Marzona a quattro anni e sei mesi e il 68enne Franco Pirelli Marti a quattro anni e quattro mesi di reclusione assolto da tutte le accuse invece l'ex direttore generale della banca popolare di Cividale Luciano Di Bernardo sono queste in sintesi le decisioni del tribunale collegiale di Udine che si è espresso in queste ore in merito al fallimento della società i tre condannati sono stati riconosciuti responsabili dopo la scissione della Fingestim in Fingestim SPA e Fingestim finanziaria con i medesimi soci dell'acquisto da parte della Fingestim finanziaria e delle quote della SPA senza seguire le normative previste per un prezzo di 1,6 milioni di euro il doppio del valore nominale Pirelli Marti è stato riconosciuto colpevole di un'altra accusa e Marzona di altre due Raggi è stato assolto da tre capi di imputazione Marzona da quattro e Pirelli Marti da tre dopo 11 anni ha scritto raggi in un comunicato ufficiale e finalmente siamo andati a sentenza sono contento di essere stato assolto su tre dei quattro capi di imputazione è stato un processo lungo e complicato per quanto riguarda la mia carica inette mi reccherò oggi stesso dall'azionista di maggioranza rimettendomi alle sue decisioni pur essendo convinto di essere del tutto innocente anche rispetto all'ultimo reato e di poterlo provare in appello Andiamo adesso in Veneto con l'ospite in compagna del collega Alessio Conforti a voi la linea Grazie il sindaco di Pramaggiore Fausto Pivetta perché notizia insomma delle ultime ore il nuovo decreto del ministro Gelmini relativamente ai fondi per i comuni di confine comuni di confine Sindaco arrivano risorse per il territorio arrivano importanti risorse per il territorio ovvero per i comuni per le aree che confinano con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il Veneto orientale sono 7 i comuni che verificeranno di questi contributi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su ovviamente su sponda del Ministro Gelmini ovvero del Dipartimento di Affari Regionali e Autonomie per quanto riguarda l'anno 2021 sono stati resi disponibili a bando 463 mila euro che insomma ci fanno ben sperare di poter in qualche maniera porre in atto azioni a rilievo di opere e servizi insomma che difficilmente per lo meno i comuni piccoli quali per la maggiore difficilmente potrebbero essere a breve insomma resi fattivi realizzabili per cui diciamo che l'auspicio è quello di potervi così beneficiare in toto e faremo il possibile come abbiamo sempre fatto anche con l'ultimo bando relativo all'annualità 18-19-20 dell'anno in corso abbiamo ricevuto 744 mila euro che ci permetteranno di svolgere alcuni progetti che stanno molto a cuore ai nostri concittadini ma soprattutto a noi come amministrazione ha già idea su che cosa potrebbero essere investiti sinceramente no in questi giorni con l'amministrazione stiamo cercando di valutare quali sono le opere che bisogneranno in primis diciamo di finanziamento le opere che dicevo prima abbiamo reso possibili col primo finanziamento col primo bando appunto 2020 sono state l'accompletamento di tutta l'illuminazione pubblica a led per un importo di circa 550 mila euro e il completamento della pista ciclabile di via Bordenone sulla strada statale ancora è 64 ora per quanto riguarda questo ulteriore bando porremo in essere uno o due progetti abbiamo alcune cose nel cassetto per cui credo che comunque saranno adoperati sicuramente per diciamo opere di rilievo all'interno del territorio comunale anche perché appunto i territori più piccoli i comuni più piccoli sono sempre più caratterizzati purtroppo da difficoltà da minore introiti insomma non è facile gestire un comune piccolo è anche per questo che si vedono sempre meno candidati e sempre meno anche così soggetti che decidono di occuparsi della cosa pubblica questa è una riflessione anche a seguito delle ultime amministrazioni comunali in un comune della marca c'è addirittura un solo candidato c'è anche questo a mettere in conto assolutamente sì allora diciamo che alla base poi c'è anche c'è anche un'ipotesi un lavoro che comunque stanno facendo che è quello di poterlo rendere strutturale all'interno di un bilancio comunale io credo che visto anche la vicinanza con il Florida la Florida regione Friuli Venezia Giulia possa essere se così sarà possa essere anche un attimino collimato quel gap per quanto riguarda ad esempio il personale degli enti locali che sono a confine con la regione autonoma stessa di fatto è molto più attraente sotto diversi punti di vista non anche quello economico io credo insomma che sono diversi gli ambiti in cui una strutturalità di questo di questo fondo fatto ancora dal ministro Letta insomma potrebbe andare a beneficio ma a un grande beneficio per i nostri comuni e territori chissà se i promaggiorenzi sarebbero favorevoli di fronte a un referendum se passare nel vicino a Friuli visto che gli abitanti cintacomaggiore stanno ancora aspettando gli agiti di quel famoso referendum ma qui mi fermo cosa ne penso a 30 secondi e chiediamo ma noi abbiamo già fatto il referendum e la stragrande maggioranza ha ritenuto e ha voluto rimanere sotto la provincia di Venezia per cui la questione è ormai si è passata poi è passata passano gli anni poi anche le idee cambiano bisogna vedere grazie sindaco grazie a voi buona serata vieni a Pordenone infortunio durante un allenamento in Germania la patinatrice italiana Giulia Presti è stata operata a Conegliano il servizio di Alessio Conforti è ricorsa alle cure dell'ospedale di Conegliano la patinatrice marchigiana Giulia Presti 15 anni infortunatasi durante un allenamento sul ghiaccio in Germania l'atleta è stata sottoposta a un intervento presso il reparto di ortopedia del nosocomio trevigiano a seguito di una frattura alla caviglia l'operazione chirurgica è riuscita perfettamente ha spiegato il primario Claudio Melchior e la giovane campionessa assistita dai genitori e dal medico della società potrà rientrare al più presto per riprendere gli allenamenti e far fronte ai futuri impegni sportivi Giulia che ha ottenuto quest'estate due ori agli europei portoghesi è figlia di Massimiliano Presti pluricampione mondiale di pattinaggio di velocità e ora commissario tecnico della nazionale italiana di pattinaggio di velocità a rotelle ed è venuto a trovarci ora Davide Toneguzzi studente atleta buonasera Davide buonasera a tutti un caro saluto da Davide Toneguzzi a tutti gli telespettatori e ringrazio Telepordenone per questa possibilità ad avere uno spazio ecco di discussione Davide va al liceo se non sbaglio no? si frequento il quinto anno del liceo scientifico a indirizzo sportivo e sei uno yogi cioè un atleta che pratica lo yoga esattamente la palestra yoga al centro yoga di Pordenone pratichi tra l'altro lo yoga agonistico si sostanzialmente in quello che è il sistema filosofico dello yoga ricordiamo che lo yoga è uno dei dieci sistemi filosofici indiani la pratica fisica fa anche parte diciamo di un insieme però non c'è solo quello ecco possiamo dire che c'è anche quello ma non solo quello ecco in realtà oggi abbiamo invitato Davide non tanto nella sua nella sua veste di atleta ma perché ci porti la sua testimonianza riguardo a quello che sta succedendo nelle nostre scuole perché anche leggendo la stampa locale pare che parrebbe che gli studenti invocassero a gran voce l'estensione del green pass anche per loro stessi la tua sensazione è questa? ah guardi mi lasci prendere le mosse nel mio intervento rilevando che l'astuzia del potere è un po' quella nel far credere amici nemici e nemici gli amici cosa vuol dire? significa sostanzialmente dividere con conseguenti lotte persone che stanno sullo stesso livello sostanzialmente sono sullo stesso piano Marx la chiamerebbe una lotta di classe all'interno della stessa classe dove si guerreggia orizzontalmente invece di convogliare la propria rabbia in modo verticistico protestando pacificatamente verso l'alto contro appunto a chi pone in essere queste divisioni quindi il primo insegnamento fondamentale della filosofia dello yoga è la sofferenza nasce dove c'è una scissione ok? quindi io sostanzialmente vedo moltissime divisioni al giorno d'oggi è il capolavoro del potere quello nel far divide e ti impera esattamente nell'avere una situazione dove il SIVAX crede nemico il NOVAX quando in realtà è una cosiddetta guerra tra poveri che giova solamente a chi povero non è sostanzialmente tu stai rilevando questo a scuola nella tua scuola nella tua classe? assolutamente sì per di più i giovani e io parlo da giovane se posso rivolgere una critica io penso che in questa società della deculturalizzazione essi siano profondamente sommersi in quello che io chiamo un annichidimento misoneista ossia si fanno garanti di questo regime tecno-sanitario lo chiameremo confusaro o biosecuritario con Foucault e quindi sostanzialmente vanno contro a chi pensa altrimenti a chi dissente dal pensiero unico e sostanzialmente è un è un controsenso ma per esempio non è il caso di Pordenone almeno non ci risulta ma si è parlato anche di episodi di bullismo cioè ragazzi magari non vaccinati bullizzati da chi invece aveva o comunque emarginati da chi aveva il vaccino hai assistito a situazioni estreme di questo tipo guardi io personalmente nella mia realtà no però comunque il clima è sicuramente questo che che hai descritto e se posso anche rifarmi nuovamente a due filosofi come Diego Fusaro e anche Giorgio Agamben essi spiegano appunto che questa tessera verde rappresenta una vera e propria discriminazione a norma di legge con assunta esclusione dalla vita sociale per i quanti non la posseggono e controllo panottico sopra e sotto la pelle e sorveglianza totale totalitaria per i quanti la posseggono quindi sostanzialmente ci si rende conto che ambedue queste parti non sono a favorite e anzi sono totalmente vanno a favore di tutte queste parti quindi il discorso fondamentale secondo me che si impara dallo yoga è la questione del vaccino è una scelta personale quindi una persona deve sentirsi totalmente libero di farlo o di non farlo ma bisogna rimanere uniti sostanzialmente contro il potere per mantenere e garantire i diritti fondamentali in quanto esseri umani stiamo perdendo l'essenza dell'essere umano per dirla con Nietzsche Dio è morto la spiritualità è morta ormai nel nostro tempo quindi sostanzialmente bisogna recuperare quella che è la vera essenza dell'essere umano io appunto assieme a Nicola che è il fondatore del centro yoga l'arte dello yoga abbiamo fondato questo podcast che si intitola Libertas Filosofandi Podcast dove sostanzialmente discutiamo liberamente di filosofie e dei problemi della nostra società e guarda caso per l'ultima puntata era sul transumanesimo dell'uomo macchina mercificato dove sostanzialmente partendo dal ragionamento di Marx e altri filosofi ci ricollegavamo attraverso lo yoga dell'importanza del ricordarci chi siamo noi della nostra essenza sostanzialmente spirituale purtroppo i giovani di oggi non hanno altri interessi che vanno al di là del mondano del materiale del piacere edonistico ok quindi sostanzialmente non non fanno qualcosa che possa dare beneficio alla loro psiche per dirla alla greca ma neanche al loro soma considerando le abitudini alimentari e fisiche per capire che tu fai il liceo classico no no io faccio il liceo scientifico però dagli oggi mi sento anche un filosofo ecco senti una cosa beh credo che anche i nostri telespettatori hanno capito che si non ci sono tanti teenager della tua età che hanno la tua formazione la tua profondità culturale ma tu in conclusione che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda che ci ha travolti in questo anno e mezzo quasi due ma guardi dipende un po' da che punto di vista ne parliamo dal punto di vista scientifico io non ne sono compotente quindi non ne parlo dal punto di vista sociale politico come essere umano parte di una comunità mi sento che posso dire qualcosa e da questo punto di vista sinceramente sembra un po' che il capitalismo sta un po' perdendo quella che era il consenso si guardi Occupable Street le giubbe gialle galliche la Brexit i vari populismi e sovranismi in giro per il mondo e quindi attraverso questa pandemia che io non discuto assolutamente come sia nata se sia vera o finta quello saranno gli scienziati che parleranno e discuteranno tra loro di questa cosa qui attraverso questa pandemia è stata utilizzata per riorganizzare in modo verticistico la società quindi per ridare forza al potere che appunto stava perdendo il consenso bene grazie Davide grazie a Davide Tone Guzzi per il suo contributo che è stato veramente veramente interessante a mio modo di vedere grazie 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 mille a tutti gli steri spettatori ieri notte la polizia di stato di trieste ha denunciato per guida in stato di ebrezza un triestino del 1997 dopo che si è schiantato con la propria auto contro un muretto in via affonta i particolari nel prossimo servizio penesimo intervento da parte della polizia di stato di trieste nell'ambito degli usuali controlli svolti nel territorio la scorsa notte infatti gli agenti hanno denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino classe 1997 alla guida di un'autovettura con a bordo altre due persone andato a sbattere contro un muretto in via fonda sul posto è immediatamente intervenuta una volante della questura che ha identificato i tre rimasti fortunatamente in columi in palese stato di alterazione alcolica l'uomo è stato sottoposto all'alcol test risultandone positivo motivo per il quale è stato deferito in stato di libertà la locale procura della repubblica e di conseguenza gli sono state ritirate la patente di guida e la carta di circolazione per quanto riguarda invece l'autovettura è stata danneggiata nella parte interiore ed è stata sottoposta a sequestro amministrativo parliamo di sport di ciclismo con Alan Olivo che è il coordinatore del gruppo ciclistico Bania buonasera Alan buonasera a tutti allora oggi è stata presentata una kermesse importante cioè i campionati a cronometro a squadra Under 23 Juniors e allievi organizzata dalla tua società con il sostegno penso di qualche amministrazione comunale anche e raccontaci un po' facciamo un po' il profilo di questa manifestazione quando dove come perché chi eccetera allora il campionato italiano per noi del gruppo ciclistico Bania è la prima volta che organizziamo un evento di portata nazionale e ci ha supportato e ci sta supportando tuttora l'amministrazione comunale di Fiume Veneto la gara si svolgerà il 9 di ottobre quindi sabato prossimo sarà verrà verrà organizzata per tutta la per tutta la giornata la prima gara partirà alle 9 di mattina con la categoria allievi maschile e femminile alle 13 scusami vediamo le immagini della conferenza stampa di questa mattina esatto alle 13 partiranno i juniors sempre categoria maschile poi quella femminile e alle 16 partiranno per ultimi la categoria degli anni del 23 ci sono iscritte quasi 80 squadre si parlano di 320 atleti quindi un impegno organizzativo e logistico notevolissimo quello poco ma sicuro bisogna ringraziare più di 150 volontari che ci daranno una mano per tenere in sicurezza il tracciato perché ci saranno due percorsi un percorso più piccolino di 18 km 600 metri e uno più grande di 25 km 300 metri sarà aperto al traffico nel senso che ci sarà la sospensione temporanea al traffico solamente al passaggio di concorrenti e quindi per garantire la sicurezza ci vorranno volontari agli incroci e anche come scorte tecniche abbiamo più di 40 scorte tecniche che ci daranno una mano ecco quindi questi circuiti toccheranno appunto il territorio di Fiume Veneto di San Vito e di Chions esatto ecco voi siete una società che comunque ha una storia una tradizione insomma il gruppo ciclistico Bania è presente sul territorio da un pezzo e tra l'altro diciamo che nella storia del ciclismo locale non c'è solo la pedemontana anche voi siete qui a dimostrarlo nel senso che anche la bassa pordenonese con San Vito con Bania Fiume Veneto a Tazzano Decimo ha espresso e esprime società e atleti esatto e noi abbiamo la fortuna di avere anche un ora come ora un vivaio di 40 atleti siamo a livello regionale una tra le più importanti squadre a livello giovanile e come ha detto lei Bania come gli altri comuni limitrofi hanno delle belle società e siamo il fiore all'occhiello anche nell'organizzare manifestazioni ciclistiche anche a livello nazionale ecco questi campionati Under 23 Juniors allievi sono un po' l'ultima anticamera per questi ragazzi prima di entrare nel professionismo possiamo dire esatto quindi che nomi ci sono già cioè potremmo vedere sulle nostre strade anche dei prospetti già segnalati di interesse nazionale o cose così beh nella categoria Juniors abbiamo 4-5 atleti che sono già andati in nazionale o che sono anche diventati campioni del mondo quest'anno su pista ai mondiali del Cairo ci saranno ci sarà anche il campione del mondo Under 23 che due settimane fa si è laureato in Belgio campione del mondo della sua categoria che si chiama Filippo Baroncini che il prossimo anno passerà professionista con la Trex Sega Faredo di Vincenzo Nibali Sì diciamo che il prossimo anno passerà formalmente professionista ma questi sono già atleti che di fatto si allenano da professionisti immagino Ah beh sì quando si passa nella categoria Under 23 non c'è più il dilettantismo come avveniva 10-15 anni fa la maggior parte di questi atleti corrono già durante l'anno con le squadre World Tour nelle corse a tappe tipo Giro della Slovacchia Giro del Somburgo anche il Giro d'Italia stesso e quindi sono già atleti professionisti Bene grazie grazie Alan Olivo e naturalmente in bocca al lupo per il buon esito della manifestazione Grazie Crepi In regione la mostra in mosaico in bianco e nero vediamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio Che cosa rappresenta per la città di Spilimbergo e per il craft di cui lei è presidente l'apertura di una mostra in consiglio regionale Un grande momento in cui si rappresentano le eccellenze spilimberghesi il centro di ricerca e archiviazione della fotografia la scuola mosaicisti del Friuli che hanno entrambe sedi a Spilimbergo un momento e un segno di ripartenza del quale siamo onorati Che cosa rappresenta questa mostra a Trieste in consiglio regionale? Beh, innanzitutto devo dire anche la verità è una mostra che è stata organizzata dal CREF quindi dal centro di ricerche e di archiviazione della fotografia riguarda i mosaicisti quindi ci tocca molto da vicino come scuola ed è un lungo percorso un percorso che con la fotografia arriviamo all'Ottocento ma la storia anche dei mosaicisti è già del 1500 ma qui già ci sono alcune immagini dei nostri mosaicisti friulani del Friuli Venezia Giulia che erano già nel parterre del mondo dalla Francia a Bruxelles negli Stati Uniti e si vede questa nostra peculiarità quindi soprattutto anche i terrazzieri ma anche i mosaicisti che abbelliscano grandissimi palazzi palazzi prestigiosi pensate solo negli Stati Uniti d'America c'è ancora la biblioteca del congresso di Woff c'è anche una delle magnificenze Liberty molto particolare ma tantissime l'opera di Parigi e tantissime opere quindi veramente il Friuli Venezia Giulia oggi rappresenta anche con questa mostra fotografica di immagini che ci fissano però il centro mondiale dell'arte musiva c'è futuro per l'arte musiva secondo lei oppure siete una scuola vecchia mi permetta è una scuola antica una scuola vecchia però che sta nella contemporaneità anzi con la prospettiva del futuro il prossimo anno è forse è la più antica scuola come nascita quindi 1922 il prossimo anno compiamo 100 anni che per noi è un punto non di arrivo ma di ripartenza per il futuro per il futuro dei nostri giovani che c'è quindi la scuola oltre a garantire una grande professionalità capacità nell'arte musiva che si dispande ancora oggi in tutto il mondo ma oggi è anche catalizzatore perché noi pensate abbiamo circa in questo momento 15 nazionalità presenti quindi arrivano dall'Asia dalle Americhe l'Europa è rappresentata nel tuo insieme proprio per apprendere un mestiere un'arte che dà le sue soddisfazioni perché oggi è di nuovo è ancora vivace sta riprendendo proprio anche questo gusto sia nella pavimentazione quindi è l'unica forse forma di espressione artistica che si può anche calpestare ma nel livello anche parietale di grandi realizzazioni il lavoro c'è ed è una buona prospettiva soprattutto per il prossimo futuro Presidente Zanin una mostra che ridà vita al Consiglio possiamo definirla così questa sul mosaico bianco e nero? Sì è la prima mostra dopo un periodo di chiusura del Consiglio al pubblico anche se è stato aperto per le attività istituzionali non abbiamo quasi di fatto mai chiuso però oggi lo apriamo anche al pubblico con questa mostra sul mosaico in bianco e nero una serie di fotografie che ripercorre una delle eccellenze della nostra regione quella del mosaico che è rappresentata sia dalla scuola Moesacisti di Spilimbergo che anche dello stesso CRAF il centro di documentazione fotografica un patrimonio di fotografia in questo caso sono poste sui nostri muri proprio le fotografie che rappresentano un punto di vista diverso rispetto al mosaico perché raffigurano le opere del mosaico che nascono dalle pietre quindi ci sono delle fotografie del greto del tagliamento dove i moesacisti andavano a prendere la materia prima e poi tutta la grande esperienza dei moesacisti in giro per il mondo la capacità di portare fuori questa capacità del fare in tutte le nazioni del nostro mondo essendo dei portavoci essendo in qualche modo degli ambasciatori di una capacità del fare e poi la scuola Moesacisti è anche un legame con la storia tradizionale della nostra regione che è Aquileia dove ci sono dei mosaici straordinari quindi questo ponte tra la storia il presente e il futuro questo rappresenta la mostra che oggi noi qui presentiamo e allora siamo arrivati al termine di questa prima parte del telegiornale adesso abbiamo un ospite in Veneto l'assessore al comune di Udine Maurizio Franz che è con il nostro Edoardo Anese saluto e ringrazio la collega Tania Pellegrini grazie a lei direttore e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fin qui li invitiamo a continuare a seguirci certo perché dopo l'ospite a Udine avremo come consuetudine il meteo un piccolo intervallo pubblicitario e poi gli approfondimenti dalle redazioni appunto di Udine e del Veneto quindi restate con noi grazie e in nostra compagnia Maurizio Franz assessore ai grandi eventi del comune di Udine ben ritrovato assessore grazie per essere con noi grazie a voi saluto a tutti i vostri telespettatori si è conclusa nel weekend la ventunesima edizione di Maratonina un grande evento di Udine come è andata? ma è senz'altro un'edizione che ha riscontrato un grande successo calcolando che comunque siamo in una fase ancora dove c'è un'emergenza legata all'epidemia ma nonostante questo c'è stata una grande partecipazione sia di atleti e qua devo dire che lo sforzo organizzativo di Paolo Bordoni il presidente e tutti gli altri va elogiato 850 atleti con prestazione anche di alto livello ma soprattutto c'è stata una grande partecipazione di pubblico perché è stata coinvolta l'intera città in questa manifestazione l'epilogo dell'arrivo è stata in via Vittorio Vento quindi vicino alla piazza principale di Udine e con un grande entusiasmo perché c'è voglia di stare all'aria aperta voglia di fare attività sportiva e senza altro la maratonina che è arrivata alla sua ventunesima edizione rappresenta un modello sotto questo profilo perché esprime valori esprime la voglia di stare all'aria aperta ma di fare sport che senza altro sotto molteplici aspetti insomma è un fattore positivo che forse è un po' anche quello tra i tanti lati negativi possiamo trovarne uno positivo che deriva dalla pandemia vero quello dello slow tourism di un ritorno alla scoperta delle attività sportive della mobilità sostenibile beh questo noi l'abbiamo potuto verificare tutta l'estate perché grazie alle molteplici iniziative che sono state fatte in città penso solo a oltre 420 in campo culturale di animazione e sportivo noi abbiamo avuto per tutta l'estate flussi notevoli di turisti soprattutto dalla vicina Austria perché ormai la pista Alpe Adria che parte da Salisburgo passa per Udine arriva fino a Grado è diventata una meta particolarmente apprezzata e quindi noi vediamo quotidianamente centinaia di turisti con le loro e-bike che sfrecciano per Udine si fermano guardano le bellezze della nostra città degustano le nostre eccellenze no gastronomiche ed è un turismo che ormai ha preso piede che secondo me vedrà anche e darà grande soddisfazione agli operatori economici e a tutti nei prossimi anni per cui come amministrazione puntiamo molto su questo cercando di rendere particolarmente viva tra ente la città di Udine in modo tale che ci possa essere una soddisfazione soprattutto per gli operatori economici che ricordo purtroppo arrivano da un anno e mezzo di difficoltà e quindi questa è senz'altro stata una cosa molto positiva che fa guardare con ottimismo anche al 2022 possiamo dire quindi un bilancio più che positivo per gli eventi estivi a Udine questo senz'altro perché oltre a quegli eventi che ho ricordato poi ci sono stati una dottina di concerti nel castello di Udine un castello interamente rinnovato perché grazie all'intervento della Daniele insomma si presenta in tutta la sua magnificenza il castello di Udine che è un posto particolarmente importante perché dall'alto si domina un po' tutta la regione tutto il Friuli lì si sono svolte una dozzina di concerti di altissimo livello che hanno richiamato migliaia di spettatori anche questo fatto da grande richiamo turistico quindi noi guardiamo con ottimismo 2022 sperando che appunto questa emergenza Covid non ci sia di poter svolgere tutte le iniziative che abbiamo in programma cominciando da quella che partirà la prossima settimana perché il 16 verrà inaugurata la grande mostra di Casa Cavazzini un evento unico per la città di Udine che vedrà esposte 50 opere provenienti dai più prestigiosi musei al mondo con opere dal fine ottocento fino alla metà del novecento di grandissimi autori e noi contiamo di portare turisti con flussi importanti per la città e quindi con ritorni positivi per tutti gli operatori economici allora noi avremo modo sicuramente di tornare assieme all'assessore nei prossimi giorni per fare anche il punto sui futuri eventi a Udine intanto grazie assessore per essere stato con noi grazie a voi e buon lavoro linea che può tornare a Pordenone Buongiorno Darpa Friuli Venezia Giulia vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni sul centro Italia si va approfondendo una depressione che giovedì richiamerà sulla regione forti correnti orientali ancora piuttosto umide in quota più secche da nord est al suolo andiamo nel dettaglio giovedì 7 cielo in prevalenza coperto per nubi ad alta quota con le possibilità di qualche breve e debole pioggia più continua sulla fascia orientale soffierà vento da nord forte in quota moderato in pianura sulla costa Borad sostenuta a forte ma discontinua con possibili raffiche sui 100-110 km orari a Trieste verso Lignano vento più settentrionale e meno forte le temperature le minime sulla pianura tra 10 e 13 sulla costa tra 10 e 13 gradi le massime sulla pianura e sulla costa tra 15 e 18 gradi temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 8 a 2000 metri 2 gradi venerdì 8 cielo in prevalenza nuvoloso in pianura e in quota soffierà vento da nord-est moderato a Trieste bora forte con possibili raffiche sui 100-110 km all'ora meno forte il vento verso la fascia lagunare nel Tarvisiano coperto con debili precipitazioni le temperature le minime sulla pianura e sulla costa tra 11 e 14 gradi le massime sulla pianura tra 19 e 21 sulla costa tra 16 e 19 gradi temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 10 a 2000 metri 2 gradi grazie a venerdì ben ritrovati dalla redazione di Udine Gorizia e Trieste di Telepordenone apriamo subito l'edizione di oggi del nostro telegiornale nella giornata odierna in Friuli Venezia Giulia su 5.427 tamponi molecolari effettuati sono emersi 102 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,87% 5.490 i test di test rapidi antigenici dai quali sono stati rilevati 9 casi percentuale bassa di positività dello 0,16% non si registrano decessi nella giornata odierna scendono le persone ricoverate in terapia intensiva a 8 unità mentre i pazienti ricoverati in altri reparti ammontano a 38 per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un infermiere e di un tecnico dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina infine sono stati rilevati 9 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione nonché la positività di un operatore all'interno delle strutture stesse nell'ambito degli eventi connessi con la regata velica barcolana si è svolta quest'oggi in Porto Vecchio promosso dalla polizia postale e delle comunicazioni un incontro con le scuole della regione sul tema della navigazione online testimonial alcune atlete e paratlete reduci dalle gare olimpiche di Tokyo Noemi Batchi Mara Navarria Giada Rossi Giorgia Marchi e la Fiamme Oro Stefania Pirozzi lo sport accanto alla polizia di Stato per diffondere i valori della lealtà del rispetto della persona e delle regole nel mondo reale come in quello virtuale le esperienze sportive sui social delle testimonial delle testimonial scusate spinte motivazionali non da poco per i giovani studenti usare sì la rete ma con il filtro dell'intelligenza comunicare è fondamentale in presenza è molto meglio però in un mondo che sta cambiando ad un ritmo incalzante la polizia di Stato può costituire per le nuove generazioni una bussola sulla quale contare sempre è partita la prima missione di Promos Italia a Dubai in occasione dell'esposizione universale che coinvolge una decina di imprese del settore green economy di Pordenone Udine oltre che di Milano Monza Brianza Lodi e Ravenna le aziende partecipanti stanno prendendo parte in questi giorni incontri d'affari con oltre 50 controparti selezionati alla fiera Vetex di Dubai la più importante manifestazione regionale sul settore dell'ambiente ed energia per il Friuli le aziende in questa prima missione sono Celtec e Carbon Composti entrambe impegnate nel dare soluzioni nel comparto ambientale si tratta infatti della prima iniziativa di un ciclo che Promos Italia organizzerà entro la fine dell'anno entro dicembre infatti l'agenzia speciale del sistema camerale italiano con uffici anche nell'unità camerale Pordenone Udine sede di Udine porterà a Dubai un totale di un'ottantina di imprese italiane competenti nel settore green economy food e arredo e design e tra l'altro realizzerà attività di accompagnamento mirate con l'obiettivo di far conoscere le opportunità commerciali ed economiche nel paese Asugi informa che nella giornata di sabato 9 ottobre è previsto uno spazio presso il villaggio Barcolana per garantire ai cittadini una giornata di vaccinazione senza prenotazione gli stand saranno posti sotto i portici del municipio in piazza Unità d'Italia con accesso libero dalle ore 9 alle ore 22 contestualmente sempre nella giornata di sabato sarà aperto lab vaccinale presso la centrale idrodinamica dalle ore 9 alle 19 sempre con accesso libero senza prenotazione il festival tra l'allero apre l'undicesima edizione ad Artegna con la mostra interattiva il giardino sonoro in programma anche due spettacoli teatrali imperdibili coppia aperta quasi spalancata e Peter Pan sentiamo il servizio aprirà nella giornata di venerdì 8 ottobre alle ore 18 e 30 al castello Savornian di Artegna l'undicesima edizione di Trallallero a dare il via alla nuova stagione del festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni sarà l'inaugurazione del giardino sonoro una mostra interattiva di strumenti musicali originali realizzati dal musicista e regista Peter Kuss di Zavod Cuscus che ha creato e curato la mostra assieme ai designer Nathan Escu e Andrei Stiular e alla grafica Ziva Moskric Tra l'allero festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni proseguirà fino al 17 ottobre in quattro comuni Artegna animi Starcento Magnano in Riviera che ospiteranno ben 22 compagnie 3 straniere 7 regionali e 12 dal resto dell'Italia artefici di altrettanti spettacoli per i bambini e ragazzi dagli 0 ai 14 anni ma adatti anche agli adulti il fitto calendario di eventi prevede oltre a una serie di appuntamenti dedicati agli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria e la già citata mostra interattiva anche quattro workshop un meeting internazionale e due approfondimenti tematici l'undicesima edizione di Trallallero Festival internazionale di teatro e cultura per le nuove generazioni è realizzata da teatro al quadrato grazie al sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Fondazione Friuli Promo Turismo FVG e col patrocinio del Comune di Artegna Questa mattina alle ore 8 circa un camion cisterna si è ribaltato accasciandosi sulla fiancata questo quanto accaduto a Maiano lungo la strada che conduce verso la frazione di Farla ferito il conducente del mezzo pesante sul posto immediatamente i sanitari giunti con l'ambulanza e l'elisoccorso regionale al momento non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli dopo l'allarme sul luogo dell'incidente giunti anche gli agenti della polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi del sinistro e i vigili del fuoco a supporto delle operazioni di soccorso inoltre per la messa in sicurezza dell'arteria e il recupero del veicolo a poco meno di un anno dal lancio di Avas CX Italia il network di Avas dedicato alla customer experience e alla digital transformation il gruppo annuncia l'acquisizione di Nohap agenzia leader in Italia nel campo dei servizi cloud processi di trasformazione digitale e system integration questa partnership guidata da Manfredi Calabro a capo di Avas CX Italia e CEO di Avas Milan spande ulteriormente le competenze di customer experience nel gruppo e sarà molto vantaggiosa per tutto il mercato europeo è tutto pronto per la sesta stagione di Maman che accompagnerà i più piccoli anche alla scoperta dell'Artico e dei suoi abitanti la trasmissione televisiva in lingua friulana porterà sul piccolo schermo un nuovissimo cartone animato Oraci Lunit serie catalana già tradotta in spagnolo e in inglese e ora in lingua friulana già tradotta appunto grazie all'Arlef che lo ha prodotto su licenza di videoplugger LTD il cartone è stato pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni ma le avventure di Oraci e Sedna due piccolissimi eschimesi che cercano di difendere il loro ecosistema unico pieno di orsi polari iglu kayak e sciamani sapranno certamente coinvolgere anche i bambini più grandi grazie al ritmo che contraddistingue le puntate la prima serie conta ben 35 episodi che nella versione friulana sono state curate da Delta Studios e CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia grazie alla direzione del doppiaggio di Rita Maffei una postina di 61 anni è rimasta ferita nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere caduta dal suo scooter in via Giuseppe Garibaldi a Cervignano del Friuli sul posto sono intervenuti i sanitari che l'hanno trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova per accertamenti i carabinieri della compagnia di Palmanova e la polizia municipale per i rilievi e viabilità ed infine i vigili del fuoco del locale di staccamento per la pulizia e per liberare il manto stradale lo scooter nell'impatto al suolo ha perso sostanze oleose che hanno reso pericoloso il transito lungo la carreggiata sentiamo le parole del presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin del presidente L'ILTE Udine Giorgio Arpino in merito alla conferenza stampa sull'ottobre mese rosa nell'ambito della lotta e prevenzione ai tumori sentiamo Presidente Zanin siamo alla presentazione dell'ottobre rosa della LILT è stato detto nel corso dell'incontro che se è vero che l'emergenza covid è stata molto importante anche in termini numerici resta pur vero che tra tumore e malattie cardiovascolari c'è una mortalità quattro volte superiore e quindi bisogna diciamo non sottovalutare chiaramente questi numeri e regolarsi di conseguenza Sì è la gratitudine del consiglio regionale e dell'attività della LILT che nel mese di ottobre e novembre attiveranno tutta una serie di iniziative proprio per prevenire e in qualche modo sostenere i malati oncologici è chiaro da questi dati che sono stati illustrati oggi emerge che le morti per tumore e per malattie cardiovascolari siano quattro volte superiore a quelle che sono state l'anno scorso le morti per il covid la mia augurio è che visto che queste cose continueranno nel tempo mentre dal covid lentamente stiamo cercando di uscire è che ci sia la stessa attenzione da parte di tutti come c'è l'organizzazione di stampa per passare al settore medico alle istituzioni alle stesse famiglie è una stessa attenzione anzi quattro volte di più proprio per invitare tutti a prevenire a curarsi in qualche modo anche attraverso gli siti di vita e l'alimentazione per prevenire questi eventi che appunto portano a questa mortalità e far sì che ci siano quindi da parte di tutti uno focus per sostenere anche da un punto di vista psicologico chi è malato le proprie famiglie ma la cosa importante è continuare con gli screening aumentarli evitare le liste d'attesa l'indice di fuga dai nostri ospedali quindi tutta una serie di azioni concrete che siano sostenute e far sì che così come si è affrontato correttamente il problema del covid sia altrettanto in maniera efficace ed efficiente affrontato il problema delle malattie tumorali e anche di quelle cardiovascolari siamo con Giorgio Arpino presidente dell'associazione Lilt a livello della provincia di Udine è stata presentata l'attività di questo ottobre rosa con tante iniziative qual è il significato generale del vostro impegno come lì? il nostro impegno fondamentale è quello di divulgare il concetto di prevenzione io ho imparato che il modo migliore per combattere più efficace per combattere il tumore è non averlo e si può non avere cercando di evitare di caderci conducendo uno stile di vita sano ed opportuno rinunciando a certe cose negative quindi al fumo all'alcol l'eccesso del mangiare mangiare sano fare movimento eccetera e farsi i controlli normali nello specifico per esempio a livello di tumore al seno siamo nel mese di ottobre quindi ottobre in rosa noi accentuiamo e incrementiamo le visite che facciamo peraltro sempre al seno alle signore e insegniamo l'autopalpazione perché l'autopalpazione permette a una persona di cogliere le variazioni dinamiche del seno e quindi di capire se c'è qualcosa che non va e quindi rivolgersi al medico prima si interviene quando si scopre qualcosa e prima si combatte il male Senso unico in via Sant'Anna a Monfalcone i lavori di riqualificazione della strada stanno per concludersi e già domani verrà apposta la nuova segnaletica verticale che indicherà il senso unico con ingresso da via Boito e uscita in via Valentinis la segnaletica apposta verrà coperta per qualche giorno in attesa del completamento anche delle strisce pedonali della segnaletica orizzontale ma con la giornata di domani entrerà in funzione il senso unico ci è stato richiesto per motivi di sicurezza da parte dei carabinieri e vigili del fuoco onde evitare che i mezzi di soccorso si trovassero ostacolati da altre auto sul percorso ha precisato il sindaco Anna Maria Cisinte la nuova viabilità prevede l'unico ingresso da via Boito ed uscita obbligatoria in via Valentinis anche chi proviene da via San Giacomo sarà obbligato a girare a sinistra in direzione Valentinis Nella giornata di oggi in mattinata per la precisione si è verificato un doppio incidente tra Terenzano e Udine Sud il primo si è verificato poco prima delle ore 8 sulla regionale 353 all'altezza di Torenzano dove una Passat diretta a Udine è andata a scontrarsi contro un furgoncino Iveco Daily con un impatto frontolaterale il secondo incidente verificatosi alle ore 12 circa lungo la regionale 676 in prossimità del casello autostradale di Udine Sud in questa circostanza la conducente di un Honda Jazz diretta sulla A23 ha perso il controllo del veicolo andando a impattare sul guardrail di protezione a bordo strada in entrambi i casi non si registrano feriti ma solamente danni ai veicoli dopo il via libera del comitato tecnico scientifico giungono i dettagli su come apriranno le discoteche dopo due anni di chiusure quasi ininterrotte la capienza è il primo dato rimane ancora molto limitata il 35% al chiuso il 50% all'aperto percentuali quindi ancora molto lontane da quelle di cinema e teatri chiaramente obbligatorio il Green Pass ma non manca l'obbligo della mascherina chirurgica per la quale però è stata introdotta un'eccezione ovvero il ballo difficile immaginare il cliente chiaramente che mette la mascherina all'ingresso la toglie quando sorseggia il cocktail al bar la rimette quando si allontana e infine la toglie di nuovo al momento di ballare è anche vero però che le mascherine sono state da tempo abolite per le attività fisiche al chiuso la politica di questa giunta regionale sarà sempre quella di disincentivare il cosiddetto turismo del pieno che provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento e di tutelare le fasce più deboli della popolazione chiedere di eliminare o ridurre il contributo sugli idrocarburi è una posizione tanto condivisibile quanto utopica perché in questo modo si finirebbe per colpire soprattutto chi ha redditi più bassi e ha bisogno degli sconti garantiti dalla tessera della benzina questa è la riflessione che l'assessore alla difesa dell'ambiente ha espresso intervenendo questa mattina in aula durante il dibattito sulle relazioni del comitato per la legislazione il controllo e la valutazione sullo stato degli adempimenti della legge 14 del 2010 il rappresentante dell'esecutivo regionale ha annunciato che in collaborazione con INSI e la regione sta rivedendo il sistema di erogazione contestera che risulta ormai obsoleto modifiche che non devono risultare troppo onerose per le casse della regione dal venerdì 8 a domenica 10 ottobre ritorna la fiera di Santa Giustina a Palmanova il neo eletto sindaco Tellini Palmanova festeggia la sua patrona giorni di festa e ritorna alla normalità nel rispetto dei limiti anticontagio sentiamo il servizio ritorna dopo un anno di stop la tradizionale fiera di Santa Giustina a Palmanova un fine settimana traendo gastronomia mercatini di obistica e le giostre del Luna Park un evento che si ripete da anni nella città stellata in occasione dei festeggiamenti della patrona Santa Giustina saranno 4 giorni di festa e celebrazioni in città giorni dedicati alla nostra patrona giorni che vedranno Palmanova vestirsi a festa e riempiendosi di sapori e persone nel rispetto delle normative anticontagio nonostante le limitazioni del momento e grazie ai grandi spazi a disposizione cercheremo di tornare più possibile alla normalità della festa commenta il neoletto sindaco Giuseppe Tellini infatti domani giovedì 7 ottobre alle ore 18 all'interno del Duomo Dogale è prevista la celebrazione del Tedeum di ringraziamento della Santa Messa in ambito storico per la festa della compatrona Santa Giustina del 428esimo anniversario di fondazione della città Fortezza particolare attenzione sarà anche rivolta al ricordo della battaglia di Lepanto per i 450 anni dall'evento quest'anno eccezionalmente saranno presenti una rappresentanza dell'ordine di Malta con la presenza di cavalieri e dame in abito da chiesa venerdì 8 sabato 9 domenica 10 ottobre dalle ore 10 alle ore 21 e 30 in piazza Grande nei primi tratti dei borghi saranno allestiti punti enogastronomici bancarelle obistiche mercatini e le giostre del Luna Park l'evento è organizzato dalla Proloco Pro Palma assieme al comune di Palmanova ieri pomeriggio intorno alle ore 16 e 30 un anziano di 82 anni è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto in piscina all'interno di uno stabilimento termale di Grado sul posto l'equipaggio sanitario di un'ambulanza che ha soccorso l'anziano trasportandolo fino all'isola della Schiusa dove nel frattempo era atterrato l'elicottero sanitario decollato da Campo Forme del pensionato è stato trasportato in volo all'ospedale Catinara di Trieste in codice giallo ha riportato un grave trauma toracico ma fortunatamente è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi si è tenuto ieri a Udine presso il punto vendita di Metro Italia il 72esimo concorso nazionale Ibers Friuli Venezia Giulia associazione italiana bartender e sostenitori la sfida organizzata dalla stessa associazione ogni anno seleziona i migliori barman d'Italia 40 gli sfidanti tra i quali si sono distinti i tre partecipanti ora diretti alla finale nazionale di Riccione Ramadan Razepi Katia Folladore e Andrea Scluba quest'ultimo sarà messo alla finale dopo i riconteggi su base nazionale inoltre sono stati assegnati i premi speciali per il concorso aspiranti sul podio Federico Penco mentre è Lorenzo Pastrello il vincitore del premio Zola questi migliori barman del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti non solo per la competenza tecnica dimostrata ma anche per l'inventiva nella combinazione e sperimentazione di sapori nuovi che hanno reso il loro cocktail davvero innovativo la valutazione finale data dalla somma dei rispettivi punteggi delle giurie ha determinato i vincitori del concorso Ibes Friuli Venezia Giulia che si giocheranno la finalissima il prossimo mese a Riccione torna quest'anno la festa olimpica a Monfalcone per l'occasione è stato scelto il giorno di sabato 16 ottobre dalle 18 presso il teatro comunale di Monfalcone si terrà la festa olimpica 2021 un'occasione che verrà sfruttata per assegnare le benemerenze sportive provinciali dell'anno 2019-2020 perseghiamo il nostro intento di promuovere l'attività sportiva a Monfalcone un modo per tenersi in forma ma anche e soprattutto per stare insieme condividere esperienze e imparare il gioco di squadra tutte cose che durante il periodo covid sono un po' finite nel dimenticatoio ha dichiarato il sindaco Anna Maria Cisinte commentando l'iniziativa presentata dall'assessore Francesco Volante in una delibera nel corso dell'ultima seduta di giunta questa era la nostra ultima notizia io vi ringrazio per averci seguiti vi do appuntamento a domani con una nuova edizione del nostro telegiornale adesso vi lascio con un piccolo break pubblicitario e dopo linea che può passare al collega del Veneto grazie e buon proseguimento di serata qui su Telepordenone un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto continua l'informazione di Telepordenone pomeriggio di rallentamenti e code in A4 per due incidenti che si sono verificati nel tratto che va da Cessalto alla Tisana il primo sinistro è accaduto a Sanstino di Vivenza visto coinvolti due camion il secondo incidente tra la Tisana e il Bivio di Porto Gruaro con un'auto finita sotto a un camion non ci sono stati feriti gravi ma gran parte della giornata è stata caratterizzata dalle ripercussioni al traffico a seguito di corsie tra l'altro anche a regime ridotto per lavori in corso un mezzo dell'Asvo l'azienda che si occupa della gestione raccolta dei rifiuti nel Porto Gruarese è stato posto sotto sequestro nelle ultime ore dopo la morte avvenuta ieri mattina a Caorle della 67enne Bernardetta Gallo il mezzo è stato individuato dopo le serrate indagini condotte dai carabinieri che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza sul lungomare Trieste dove è accaduta la tragedia dinamica ancora in fase di accertamento Asvo non commenta al momento attende l'esito delle indagini lo ha fatto sapere l'azienda in una nota la donna di 50 anni gaiarinese coinvolta nel drammatico incidente stradale di martedì sera Maron di Brugner ha costato la vita all'operaio di 43 anni Roberto Maccan di Prata di Pordenone verrà indagata come atto dovuto per omicidio stradale è stato aperto un fascicolo d'inchiesta sull'accaduto la donna guidava una Toyota Igo mentre Maccan procedeva in sella a una BMW GS vecchio modello entrambi i mezzi per decisione dell'autorità giudiziaria sono stati posti sotto sequestro e saranno oggetto di una perizia per stabilire e accertare la dinamica del fatto prima se le sono dette di santa ragione e poi sono passati alle vie di fatto protagonisti di una rissa senza esclusione di colpi a Volpago del Montello sono stati due autotrasportatori romeni un 46enne e un 53enne che dopo l'intervento dei carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale di Montebelluna il fatto è accaduto attorno alle 22 di ieri in via Piave la zona industriale è solitamente utilizzata dai mezzi pesanti per la sosta dei veicoli secondo quanto emerso dalle indagini i due dopo aver consumato la cena in evidente stato di alterazione a seguito di un acceso litigio scoppiato pare per futili motivi hanno dato vita alla zuffa il 46enne ha colpito più volte con una leva in ferro il connazionale che ha ragito sferrando un fendente con un coltello da cucina il primo ha riportato una ferita da taglio al dorso della mano destra una decina di giorni la prognosi e l'altro ancora sotto osservazione da parte dei sanitari una frattura al braccio sinistro un trauma cranico e una ferita lacero contusa al mento gli oggetti utilizzati dai due stranieri per la rissa sono stati sequestrati dai carabinieri un 21enne di nazionalità albanese è stato invece arrestato dalla polizia con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti andiamo a Venezia il ragazzo è stato sottoposto a un controllo a Carpenedo è trovato in possesso di una ventina di dosi di cocaina già confezionate e una considerevole somma in denaro in contante di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione il blitz è scattato in sinergia tra la polizia e gli agenti della locale veneziana a seguito di un'auto quella condotta dal 21enne con targa italiana che si aggirava con fare sospetto nei pressi del cimitero da ulteriori controlli è emerso che il soggetto risultava essere irregolare sul territorio nazionale è stato condannato nelle ultime ore con rito direttissimo a un anno di reclusione a 1400 euro di multa con anche la notifica del decreto di espulsione dal territorio nazionale il tema della proliferazione delle nutrie nelle campagne del veneto continua a tenere banco tanto che passa in consiglio regionale una mozione c'è soddisfazione da parte di col diretti ma la questione soprattutto nel veneziano continua a preoccupare col diretti veneto esprime soddisfazione per l'approvazione della mozione in consiglio regionale che impegna la giunta a trovare risorse per interventi in grado di potenziare l'attuazione delle attività di eradicazione delle nutrie l'entrata in vigore del nuovo piano regionale non ha ancora previsto gli aspetti economici ha sottolineato l'ente e la questione per alcune problematiche è rimasta ancora aperta sul tavolo istituzionale visti i risultati raggiunti dalla precedente pianificazione nella mozione va nella direzione di implementare la nuova programmazione di controllo della nutria rendendola più efficace attraverso l'uso di tecnologie d'avanguardia per individuare i siti di insediamento del roditore integrando il tutto con incentivi ad hoc per sostenere le azioni di abbattimento e di smaltimento delle carcasse ai danni alle colture come mais barbabietole e grano di cui roditore e ghiotto si aggiungono i costi supplementari per gli interventi straordinari di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica spiega Andrea Colla presidente di Coldiretti Venezia nel nostro territorio il problema è davvero serio tanto che si stima la presenza di questo roditore in diverse decine di migliaia di capi e la situazione sta peggiorando quotidianamente è pericolosa non solo dal punto di vista del rischio igienico sanitario dice ancora il presidente di Coldiretti ma in particolare per il danneggiamento della rete idraulica mettendo a rischio la stabilità e l'integrità degli argini di canali e fiumi con l'aggravarsi del problema quando si verificano le piogge torrenziali a proposito di maltempo la protezione civile del Veneto ha emanato un nuovo avviso di attenzione per vento forte valido su tutto il territorio regionale fino alla mezzanotte di domani 7 ottobre alla luce di quanto previsto dai modelli c'è particolare appunto attenzione sul fronte delle folate di vento su costa e pianura salgono i casi di contagio invece da covid-19 nelle ultime 24 ore 416 nuovi casi aumentano anche i decessi 6 in più tra ieri e oggi migliorano i dati invece nelle terapie intensive dove ci sono 44 ricoverati 10 meno rispetto a ieri e aumentano leggermente invece i pazienti in area non critica che sono 201 una donna che minacciava un gesto estremo lanciandosi da un ponte tibetano nel bellunese a Perarolo di Cadore è stata salvata dopo un dialogo di 4 ore da un agente carabiniere in servizio nella stazione dell'arma di San Vito di Cadore la donna madre di tre figli aveva raggiunto il centro del ponte minacciando di lanciarsi nel canalone sottostante profondo 80 metri il salvataggio è avvenuto grazie all'intervento provvidenziale della appunto carabiniera che è riuscita a far desistere la donna dall'intento è ricorsa invece alle cure dell'ospedale di Conegliano la patinatrice marchigiana Giulia Presti 15 anni infortunatasi durante un allenamento su ghiaccio in Germania l'atleta è stata sottoposta a un intervento presso il reparto di ortopedia del nosocomio trevigiano a seguito di una frattura alla caviglia l'intervento chirurgico è riuscito perfettamente spiegano dall'ospedale di Conegliano il primario Claudio Melchior la giovane campionessa assistita dai genitori dal medico della società potrà rientrare al più presto per poter riprendere gli allenamenti e far fronte ai futuri impegni sportivi Giulia che ha ottenuto quest'estate due ori agli europei portoghesi è figlia di Massimiliano Presti pluricampione mondiale di patinaggio di velocità e ora commissario tecnico della nazionale italiana di patinaggio di velocità a rotelle buone notizie veniamo a Portogruaro per il 14enne investito da un furgone ieri in viale Udine in un tratto privo di protezioni per ciclisti il giovane ha lasciato la rianimazione intensiva ed è stato trasferito in un reparto ordinario dell'ospedale Caffoncello di Treviso è finita l'estate ed è tempo di fare un bilancio anche per quanto concerne l'imposta di soggiorno a Jesolo si sorride perché il tributo fa registrare numeri superiori all'estate del 2019 come da previsioni agosto si è confermato un ottimo mese per l'estate Jesolana gli uffici comunali hanno elaborato i dati relativi all'incasso dell'imposta di soggiorno per l'intero mese che confermano il trend già evidenziato nel corso di luglio entrando nello specifico il tributo ha portato a incassare quasi 1.700.000 euro mentre nello stesso mese del 2019 la montare era stato di 1.600.000 euro l'incremento percentuale di 2,03 punti mentre in termini assoluti è di 33.769 euro la crescita è particolarmente significativa tenuto conto del fatto che l'estate 2019 non aveva dovuto fare i conti con la pandemia da covid-19 che invece ha condizionato fortemente l'attività dei mesi più caldi del 2020 e seppur in maniera leggermente più contenuta anche del 2021 l'incidenza dell'emergenza sanitaria risalta anche dai dati sui proventi dell'imposta di soggiorno di agosto 2020 quando il contributo ha raggiunto la cifra di 1.400.000 euro il 13% in meno di quest'anno fino a questo momento il comune ha incassato quasi 4 milioni di euro dal tributo nelle 2019 a questo punto dell'anno la montare derivante dall'imposta era stato di 4 milioni e 300 mila euro la differenza è stata del 10,2% l'estate 2019 aveva potuto contare su un mese di maggio di attività regolare con un versamento totale di 227 mila euro fondi che quest'anno non sono entrati nelle casse del comune dell'Alto Adriatico in seguito alla decisione dell'amministrazione di sospendere il tributo nel mese di maggio per venire incontro alle difficoltà affrontate dalle attività commerciali il tema delle lungaggini del centro unico di prenotazione dell'ospedale di Porto Gruaro finiscono in consiglio comunale le code da un po' di tempo a questa parte sono lunghe mercoledì scorso giorno in cui si sono votate alcune variazioni di bilancio il consigliere comunale di civici e democratici Andrea Vindigni che fa parte del partito democratico cittadino aveva manifestato perplessità su quanto notato di persona proprio nell'area del CUP con appena due sportelli voglio esprimere le mie perplessità su questo servizio ha detto il consigliere comunale per motivi personali ho frequentato l'ospedale e ho notato che il servizio andava a rilento con molte persone presenti sebbene siamo ancora in una fase emergenziale Vindigni nello specifico ha raccontato quanto accaduto la tensione era molto alta ha detto c'è stata anche una protesta voglio mettere al corrente tutto il consiglio comunale e anche il sindaco Florio Favero che quanto sta accadendo necessita di alcune correzioni a proposito di sanità il nuovo direttore dell'US4 Mauro Filippi ha recentemente nominato i nuovi direttori di dipartimento strutturale e funzionale dell'azienda sanitaria a sette sono le conferme Francesco Fidanza alla guida del dipartimento chirurgico Fabio Toffoletto alla direzione dell'area critica pediatrica e adulta Pier Giuseppe Flora al materno infantile Angelo Lucangeli alla riabilitazione ospedale territorio Daniele Bernardi all'oncologia clinica Mauro Scanferlato alla gestione integrata paziente fragile Diego Saccon alle dipendenze la nuova nomina riguarda il dottor Lucio Brollo che ha ricevuto l'incarico di direttore del dipartimento medico gli otto camici bianchi come vediamo in foto hanno incontrato il direttore nella formalizzazione dei vari incarichi il consiglio regionale del Veneto ha approvato con voto unanime invece il secondo piano triennale per l'invecchiamento attivo un piano che dà attuazione a una legge regionale finanziato con un milione di euro a proposito di consiglio regionale parliamo di cultura perché è stato definito l'accordo di collaborazione tra la regione e la fondazione Cini nei 70 anni appunto di nascita dell'ente culturale e nei 1600 anni dalla fondazione di Venezia prende forma l'accordo di collaborazione permanente tra regione Veneto e fondazione Cini proposto dalla commissione cultura del consiglio regionale in occasione dei 70 anni dell'ente culturale fondato dal conte Vittorio Cini e dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia è divenuto partnership con la legge regionale votata all'unanimità dal consiglio prima della pausa estiva a poche settimane dall'entrata in vigore della legge 24 che istituzionalizza la collaborazione culturale tra la fondazione dell'isola di San Giorgio e la regione la sesta commissione ha approvato all'unanimità il programma delle iniziative 2021 e lo schema di accordo quadro che dettaglia l'impegno oltre al contributo annuo che quest'anno ammonta 150 mila euro il Veneto sosterà i progetti più qualificanti della fondazione anche con il proprio logo i propri canali comunicativi e la propria programmazione culturale per il settantesimo anniversario della fondazione e dei 1600 anni del capoluogo lagunare la regione sostiene attivamente il percorso espositivo della galleria di Palazzo Cini dedicato alle opere di Arturo Martini Giorgio Morandi e Filippo De Pisis appartenenti all'ascito Malabotta quindi il recupero e la riapertura al pubblico del parco monumentale e del labirinto Borges nell'isola di San Giorgio che ha fatto da teatro raffinate letture dantesche per i 700 anni dalla morte del poeta Meduna di Livenza festa speciale domenica scorsa per la sezione Avis locale infatti 61 anni fa questa associazione di volontariato venne costituita da persone che donano volontariamente gratuitamente periodicamente il proprio sangue per contribuire a salvare vite umane sono state consegnate le benemerenze ai soci a Visini che si sono distinti nel corso di questi anni per le donazioni soddisfazione è stata espressa dal sindaco Arnaldo Pitton che si è complimentato per l'operato dei volontari sempre più richiesto chiaramente non solo a Meduna di Livenza ma in tutti i comuni della regione in questo particolare momento dove appunto c'è la necessità sempre più impellente anche di donare il sangue grazie per averci seguito con questo è davvero tutto vi lascio alle nostre previsioni del tempo buon proseguimento con la nostra programmazione arrivederci Giovedì 7 Tempo variabile con cielo in prevalenza molto nuvoloso coperto precipitazioni possibili precipitazioni in prevalenza deboli e sparse sulle zone centro-orientali della pianura qualche debole pioggia locale dalle ore centrali sulle zone montane e pianura occidentale temperature valori in generale contenuto calo venti in pianura moderati da nord-est con bora tramontana sulle zone costiere in montagna venti tesi fino a forti in alta quota da nord-est mari in prevalenza molto mosso specie sulle zone meridionali con bora tramontana con bora tramontana Grazie a tutti.